M.C. Croziere, M.C. Partasia, Croziere Azzurro, siamo in compagnia di Gianluca Grava e Paolo Cannavaro nella palestra per i training con i tifosi, ci sono comunicazioni importanti da dare, chi comincia? Sono io. Gianluca Grava. No, perché ci è giunta questa notizia da Napoli importante, tragica per noi, l'abbiamo saputo qui a bordo e volevamo stare vicino a tutte le famiglie di queste persone che sono morti, c'è cinque morti e tre feriti a Piazza Caribaldi, quindi non lo so, parla Paolo che è il capitano. Sì, effettivamente è una situazione terribile Paolo, che puoi dire? No, siamo vicini alle famiglie delle vittime perché oggi a Piazza Caribaldi, poco tempo fa a Piazza Caribaldi è successo un episodio increscioso, non dovrebbero mai succedere, però è successo e mi dispiace, mi dispiace. Non possiamo, beh, che cosa è successo? No, scoppiate le valli a Caribaldi. Non so, buona.